Oggi è il 21 maggio. 1956, prima bomba H presso l'atollo di Bichini. 1927, Lindbergh completa il primo volo transatlantico. 1991, Rajiv Gandhi assassinato da un terrorista kamikaze. Commenta il fatto del giorno Alberto Faustini, direttore dell'Adige e Alto Adige. Oggi parlerò di un uomo che ha cambiato la letteratura italiana, Carlo Emilio Gadda. Grazie a tutti.